salve buongiorno buongiorno a tutti e ben ritrovati sono sempre katia di viaggi in giro e oggi andiamo in abruzzo ci spostiamo un po abbiamo fatto lazio campania adesso andiamo in abruzzo un po di strada non fa male ci fermiamo a colonia spiaggia che è una piccola frazione di roseto degli abruzzi quindi è poco conosciuta però comunque molto carina perché c'ha 3 4 negozi però utili c'è una bella sosta che trovate nel link qua sotto nell'articolo dunque perché andiamo lì perché andiamo lì perché è una posizione diciamo strategica strategica sì fuori dalla sosta c'è una piccola spiaggetta simpatica piccolina ma molto carina perché poi camminando si arriva anche un po più giù e va bene c'è una bella ciclabile che da lì arriva volendo fino a giulia nova ma anche oltre io l'ho fatta anche con il mio gruppo quello dei fans di viaggi in giro e tutti in bicicletta siamo andati a prendere il gelato a giulia nova la sosta è tranquilla perché comunque ripeto è piccola poi ci sono delle aree di sosta tra cui quella convenzionata con noi la trovate sempre sotto e il mare il mare è bello il mare dell'abruzzo comunque si sa che è bello certo poi quando c'è la folla diventa un po meno bello però insomma si può prendere la bicicletta e poi e poi un'altra particolarità lì di questo posto è che se non si vuole andare in spiaggia al mare si può andare in spiaggia al fiume sì molto interessante questa cosa perché c'è il fiume che passa proprio lì vicino infatti poi per andare a giulia nova in bicicletta con la ciclabile si attraversa il ponte un bel ponte di legno che offre anche un bel panorama trovate nelle foto dove poi sfocia il fiume adesso non mi ricordo il tordino ecco si chiama tordino il fiume tordino e c'è anche una bella storia delle anatre di questo fiume però vabbè se vi dico tutto adesso che cosa leggete quindi colonia spiaggia molto vicina a roseto degli abruzzi e un po più là giulianova delle belle località da vedere da visitare e utili per pedalare o andare a piedi a giulianova ovviamente che è più grande trovate negozi supermercati mercatini il trabucco sapete che è il trabucco ve lo dico la prossima volta quindi ci ritroviamo qui per un'altra gita prossimamente trovate il link qui sotto commentate curiosità consigli quello che io non ho detto ditemelo voi che io lo aggiungo anche a vostro nome alla prossima e buona giornata a tutti ciao ciao